buongiorno a tutti e bentornati su casa del sole tv siamo di nuovo sul nostro canale principale e vi chiedo di iscrivervi tutti al nostro canale youtube ma anche ai nostri canali alternativi rambo e odyssey e di continuare a sostenerci sapete come fare dal nostro sito web oggi parliamo di inquinamento elettromagnetico e di quello che sta succedendo e anche del discorso di mattarella lo facciamo con il nostro amico giornalista e maurizio martucci buongiorno maurizio jeff offon ben ritrovato saluto tutti gli amici della casa del sole tv grazie dunque maurizio è cominciato il summit dei finanzieri globalisti di davos e il giorno prima dell'apertura ufficiale è partito con un flop sull'ucraina ma nella classifica dei rischi che hanno stilato sul loro sito web al primo posto c'è la disinformazione evito i commenti per ovvi motivi ma a parte le narrazioni ad hoc il fulcro della rivoluzione industriale di schwab che lui ha descritto benissimo nei suoi libri è il transumanesimo e l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale e la direttrice del fondo monetario internazionale già intervenuta in merito al summit di davos e ciò che ha detto potrebbe non piacerci che cos'è che ha spiegato la georgema e come si lega maurizio anche al discorso pronunciato dal presidente mattarella la cui faccio una parentesi la cui unica terapia secondo me è il contro contro discorso di roberto quaglia che consiglio a tutti e cosa sta succedendo cosa possiamo fare cosa possono fare i comuni e l'arpa e qual è il quadro allora eccoci qua diciamo che abbiamo tanta carne al fuoco perché eh non ci facciamo mancare nulla tra davos tra il collo il quirinale schwab arriverà sicuramente a rari mattarella insomma veramente siamo in piena transizione digitale e ne stiamo ascoltando di ogni e soprattutto vediamo come la programmazione va avanti spedita andiamo per gradi cominciamo a dare qualche numero di inquadrando la situazione nella maglia nella maniera più opportuna allora davos il forum economico mondiale l'appuntamento annuale la cinquantaquattresima edizione eh in svizzera dei dei guru praticamente del nuovo ordine mondiale duemila e ottocento decisori businessman a livello mondiale sono rappresentati cento eh sessanta paesi soprattutto sono presenti nell'arco di questa settimana una sessantina tra capi di stato e capi di governo questo per far capire la portata l'importanza di questo appuntamento pressoché unico insomma molti fino a qualche anno fa ne ignoravano l'esistenza davo del complottista quanti magari in maniera squisitamente giornalista e quindi di ontologicamente professionalmente valida cercavano di far capire cosa fossero questi possessi internazionali dei non eletti che vanno a tracciare le linee guida della programmazione mondiale insomma l'esecutivo Meloni vorrebbe farci credere di eh di snobbare un pochino questo appuntamento che vede in Klaus Schwab il eh punto notale insomma dell'architetto di la di questa grande di questo grande resettaggio in realtà l'esecutivo Meloni manda almeno queste sono le agenzie le conferme che abbiamo in eh queste ore niente di meno che il ministro delle delle economie e delle finanze Giancarlo Giorgetti con il peggio peggio notizia di questa non poteva essere eh sì magari molti ricorderanno anche eh il eh il balletto no dietro le quinte rubato da una da una telecamera poi ripresa dal fatto quotidiano dove Bossi gli diceva ma tu Giancarlo ma ma sei un massone lui diceva no no ma che scherzi io mica sono un massone sono mica stare qui ed era una convention della Lega di qualche anno fa in realtà oggi ce lo troviamo a Davos con i più grandi big insomma a livello a livello mondiale al di là di Giorgetti poi l'Italia è anche rappresentata va detto da eh dei colossi della finanza e dell'economia dell'industria nazionale insomma è rappresentata Eni è rappresentata Enel è rappresentata Tecnogym no visto che si va in palestra per farci i muscoli ma dobbiamo anche sapere quei macchinari a chi fanno riferimento è rappresentato poi Unicredit Unipol insomma tutto il ramo bancario finanziario Intesa San Paolo addirittura Ariston e Illi Illi Caffè insomma di di Trieste sicuramente eh ce lo ricordiamo per la bevanda in tazzina mettiamola così insomma e far capire che a Davos eh non ci sono gli ultimi arrivati ma ci sono personaggi sicuramente di primo di primo ordine che cosa è accaduto nelle prime ventiquattro quarantottore insomma nel nell'avvio di questo forum che poi oltretutto questa è una notizia che non è circolata ma eh facendo un pochino di ricerca la si riesce a trovare addirittura sembrava che quest'anno dovesse slittare l'appuntamento in Svizzera perché evidentemente cominciano a dar fastidio non tanto le manifestazioni di dissenso che sono penso che assente sono addirittura eterodirette io ricordo lo scorso anno c'erano c'erano i rappresentanti dei gretini no i Future Friday quelli che poi andavano lì a chiedere a Schwab eh facciamo in modo di chiuderci ancora di più all'interno facciamo di più della nostra tecnogabbia perché dobbiamo preservare no il il globo dal dal suo riscaldimento da da dai cambiamenti climatici quindi al di là di contestazioni pressoché resistenti sembra che dasse un pochino di eh di fastidio di noia il fatto che si possa andare Svizzera a sciare almeno questo si è letto tra le righe però Davos quest'anno ha protestato anche il governo Svizzero perché dice gli alberghi costano talmente tanto che noi non ce li possiamo mandare i nostri politici eh esatto quindi sembra sembra che ci sia qualche qualche frizione qualche scricchiolio pensiamo ad esempio anche allo scorso anno a alla defezione di Elon Musk che no che si era messo un po' di traverso vediamo poi quest'anno nella convention che cosa farà il Taycon della Silicon Valley insomma diciamo non tutto sembra essere così come Schwab l'aveva idealmente pensato fin dagli anni settanta ma al di là di questo che cosa è accaduto all'avvio la presentazione delle prospettive dei principali economisti duemila e ventiquattro un documento ufficiale io l'ho rilanciato proprio sui miei canali su Telegram Maurizio Martucci giornalista libro un documento un po' inquietante perché eh fa dell'intelligenza artificiale e questo non lo sapevamo io lo vado dicendo ormai da anni ma sembra che ormai il messaggio stia cominciando a passare quindi magari più di qualcuno comincia ad aprire gli occhi e capirlo bene questo documento ufficiale presentato nella prima giornata del forum economico mondiale di Davos dice che l'intelligenza artificiale è destinata a un grande cambiamento e soprattutto dice che i cosiddetti tecnoscettici coloro i quali magari piuttosto che abbracciare in maniera critica l'intelligenza artificiale rimangono sulle proprie dicendo attenzione che può essere pericolosa no no quel documento dice che convinceremo chissassi in maniera coercitiva o meno anche loro ad abbracciare questo futuro che prima non c'era ma al di là di questi eh di questi passaggi al di là anche dei dati che vengono forniti come dicevi tu caro eh caro Jeff è fondamentale il messaggio che ha dato la direttrice del fondo monetario internazionale perché qui apri di cielo ha parlato di cifre incredibilmente importanti che possono essere definite né più né meno che stragi occupazionale insomma una vera e propria ecatombe nel mondo del lavoro io sottolineo con la complicità dei sindacati silenti ha detto che nei paesi economicamente sviluppati quindi l'Italia il sessanta per cento della forza lavoro lo ripeto l'ha detto la direttrice del fondo monetario internazionale il sessanta per cento della forza lavoro sarà riconvertita o verrà persa ha pure detto che qualche mestiere può anche scomparire del tutto allora la disoccupazione tecnologica è questo il tema che è stato tracciando dal fondo monetario internazionale leggo un virgolettato a caro Jeff per far capire a chi è in ascolto l'importanza di quello che è stato detto a Davos circa la metà dei posti di lavoro il cui ambito agisce l'intelligenza artificiale potrebbero di fatto sostituire le mansioni attualmente svolte dagli umani con l'effetto di ridurre la domanda di lavoro e di portare a salari più bassi e a una riduzione delle assunzioni e nei casi più estremi alcuni di questi lavori potrebbero scomparire del tutto cioè quindi abbiamo riportato nel telegiornale proprio citando l'intera frase perché sembrava quindi ce lo dicono allora ce lo dicono ma noi che facciamo giornalismo facciamo informazione chi fa inchiesta questi discorsi li sta denunciando da anni sono anni che stiamo dicendo attenzione che dietro la transizione digitale si nasconde un grossissimo pericolo in realtà più di uno abbiamo sempre detto il transumanesimo è il punto d'arrivo e lo vediamo dietro le mie spalle in questo riassunto dal 5g al transumanesimo ma soprattutto abbiamo detto al di là della tecnologa abbia al di là delle smart city arriverà la disoccupazione tecnologica l'intelligenza artificiale gli automatismi i robot ci porteranno via il lavoro e adesso ce lo dicono da davos dove sono talmente bravi da anticipare i tempi pensiamo anche ad esempio all'emergenza sanitaria no pensiamo anche ai virus a quante ne hanno anticipate tante redazioni giornalistiche hanno già cominciato a sostitare a mandare via i giornalisti perché esatto prendono meno con l'intelligenza artificiale esatto esatto e qui caro jeff come dicevi tu in apertura si lega il messaggio di fine anno ma se vogliamo anche gli auguri di natale quindi il messaggio eh lanciato al Quirinale dal presidente della repubblica Sergio Mattarella a tutte le forze politiche per quanto riguarda il natale e poi urbi e torbi a tutta la popolazione a reti unificate per quanto riguarda il messaggio di fine anno quello che poi viene chiamato il messaggio del capo dello stato di capodanno che cosa ha detto Mattarella e anche qui io ho eh diciamo sottolineato attraverso una chiave di lettura che è sfuggita guarda caso stranamente al mainstream ma ho sottolineato sui miei canali sulle mie produzioni che il messaggio di Mattarella va preso con le pinze per quale motivo perché in realtà ascoltandoli in prima battuta uno direbbe ah presidente della repubblica è un tecnolo in belle è straordinariamente dalla parte di chi denuncia la transizione digitale perché ha detto restiamo umani ha detto l'intelligenza artificiale può essere un pericolo e in parole povere al netto dei silenzi della politica perché non c'è nessun partito politico che denuncia la transizione digitale abbiamo dal Colle dal Quirinale il presidente della repubblica che lo sta facendo il primo è la apripista quindi ben venga uno potrebbe dire sta pronunciando dei discorsi sensati virgola andiamo a capo perché in realtà leggendo in profondità e comprendendo nella complessità il messaggio del capo dello Stato si capisce perfettamente che si vuole denunciare il pericolo si vuole dire esattamente come stanno dicendo a Davos che l'intelligenza artificiale e la robotica sono un pericolo però poi Mattarella ha detto anche che se trovata la quadratura del cerchio trovato l'equilibrio e soprattutto il punto nodale per restare a galla appassionatamente tutti quanti insieme allora può andar bene ecco qui la chiave di lettura del presidente della repubblica che fornisce un assist straordinariamente invitante per l'esecutivo a guida Giorgia Meloni che nella prossima primavera si troverà a Trento a gestire il G7 ehm guidato dall'Italia sull'intelligenza artificiale quindi a mio avviso il presidente della repubblica è vero che ha picconato le nuove tecnologie qualcuno ha detto ah l'ha fatto all'indomani della visia di Elon Musk eh alla festa dei giovani di di fratelli d'Italia per picconare un pochino queste tecnologie che stanno predando le democrazie ma in realtà non è vero perché se eh quanto ha riportato il sole 24 ore corrisponde a verità Elon Musk sta stringendo accordi con Home and Fiber per irradiarci dal cielo con Starlink con i satelliti del 5G lanciati in orbita quindi eh cerchiamo di capire quello che sta avvenendo sta avvenendo che il presidente della repubblica molto probabilmente questa è la mia chiave di lettura sta aprendo al G7 di Trento che verrà guidato da Giorgia Meloni non a caso Trento non a caso la città per eccellenza delle smart city insomma non a caso tutto questo grande stravolgimento che proprio a Davos hanno ribattezzato come quarta rivoluzione industriale dove la fusione del fisico il biologico e il digitale è realmente l'inedito che prima non c'era da un punto di vista tecnologico eh sì l'inquadro è assolutamente è assolutamente questo e fra l'altro erano già stati presi accordi anche con Bill Gates con la Microsoft in passato se non ero anche Draghi se non ero sicuramente certo sì ma diciamo che non c'è stato esecutivo che non abbia abbracciato da Gates da Soros da Musk da Zuckerberg insomma diciamo che Palazzo Ghigi comprese anche le stanze vaticane visto che poi una volta passati per Roma hanno fatto capolino anche eh presso la Santa Sede diciamo che un po' tutti sono transitati eh nelle nostre stanze dei bottoni a questo va sottolineato sì e come e come poi ci sarebbero collegamenti anche con altri personaggi ma lasciamo per tipo eh Epstein e altri che poi in passato sono tutti quanti stati ricevuti sia dai leader politici che da che dal Vaticano quindi è stata la legge è passata la legge Maurizio è passata la legge di cui abbiamo parlato più volte per l'innalzamento dell'elettro smog è un dato di fatto ma forse è peggiorato dal fatto che verranno moltiplicate le antenne e anche potenziate se non abbiamo capito male qual è il quadro che ecco perché è qui che possano intervenire comuni e ARPA che cosa possono fare se possono ancora fare qualcosa? Allora quindi Jeff stai aprendo il vero e proprio passo di Pandora stai scoperchiando tutto quello che è rimasto sommerso l'abbiamo denunciato pressoché quasi l'esplosiva anche qui sulla casa del Sole TV anni da quando c'era Giulietto a chiesa con Pandora insomma anni che abbiamo fatto battaglie con il 5G per dire no allo sperimentazione a cielo aperto no allo tsunami elettromagnetico no all'invasione Giulietto ha subito detto che dobbiamo difendere il nostro territorio ti ricordi? E come no ma c'è una no ragione anche come territorio mentale non solo come territorio Eh sì eh sì purtroppo è accaduto quello che non doveva succedere è accaduto che dopo il senato anche la Camera dei Deputati ha approvato eh DDL concorrenza che l'articolo 10 prevede rinnalzamento dei limiti soglia di inquiremento elettromagnetico quindi quando praticamente tutti gli italiani distratti dai brindisi di fine anno è accaduto guarda caso perché queste cose accadono di norma o a ferragosto te lo ricorderai Jeff il blitz dell'otto di agosto tentato a Palazzo Ligi da Adolfo Urso che inserì un articolo in un decreto omnibus per rinnalzare l'elettrosmog fallì il tentativo a ferragosto ce lo siamo ritrovati a capodanno perché il trenta di dicembre in gazzetta ufficiale è stata pubblicata la norma la legge è per l'appunto quella del trenta di dicembre che aumenta l'elettrosmog è un dato di fatto è un dato di fatto purtroppo è una sconfitta per tutti è una sconfitta non soltanto per chi fa informazione per gli attivisti per la base per i militanti stop 5G insomma tutto questo per chi soffre di elettrosensibilità il problema è che a perdere sono tutti i cittadini perché questo è un vero e proprio trattamento sanitario da cui nessuno potrà scampare cosa dice la norma cosa dice la norma questi sono passaggi molto importanti dice che si parte almeno da 15 volte per metro ma non ha detto che quello sarà il tetto finale ha detto semplicemente la norma approvata in gazzetta ufficiale il trenta dicembre che da lì si parte si parte per chi e con cosa allora cosa 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 può accadere da qui a questi 120 giorni che attenzione non se l'ha inventato urso non se l'ha inventato la meloni cioè questo lo prevede la legge quadro del 2001 quindi la legge quadro del 2001 disciplina che qualora e purtroppo dopo oltre 25 anni dall'adozione di una delle norme più cautelative sono riusciti a farlo con questo esecutivo compiacente con gli interessi con gli interessi dei grandi potentati e delle lobby in questi 120 giorni l'esecutivo si deve confrontare nella conferenza unificata con regioni comuni e comunità montane si deve confrontare per cosa perché questo è un passaggio notale da comprendere perché nella conferenza unificata questi tre attori che ho citato quindi comuni regioni e comunità montane secondo la legge quadro del 2001 sono deputati ad offrire il loro assenso il loro diniego oppure magari la loro perplessità rispetto all'aumento dell'elettrosmog e la legge cosa dice quella del 30 dicembre 2023 che si parte da 15 volte per metro quindi l'aumento dell'elettrosmog è un dato di fatto ufficialmente approvato per legge qualora ecco le tre opzioni che poi in realtà potrebbero sintetizzarsi in due no essere favorevoli o essere contrari qualora i comuni regioni e comunità montane dovessero opporsi potrebbe rimanere al minimo i 15 volte per metro ma qualora e questo è un passaggio ulteriormente inquietante qualora comunità montane comuni e regioni della conferenza unificata dovessero aprire favorevolmente a uno tsunami elettromagnetico ancora più alto e 15 volte per metro di patterza potrebbero diventare 20 30 40 o 60 perché quello è il punto e come dici jeff si parte da bravissimo si parte da non è detto che quello è il punto finale allora l'equivoco che si sta commettendo in questi ore in questi giorni io sto vedendo anche dei comunicati che stanno uscendo da dalla base dai medici dell'associazione ma attenzione non si può chiedere e purtroppo la legge lo disciplina ai sindaci di fare braccio di ferro con i comuni per tornare a sei volte per metro che la norma cautelativa che abbiamo avuto per vent'anni per venticinque anni non lo si può fare perché la legge è stata approvata e il legislatore è praticamente in doppia seduta camera e senato quello che viene approvato e promulgato dal presidente della repubblica non può essere il sindaco lanci che dice no no io no no io questo non lo voglio ma magari potesse essere così magari si potesse ascoltare la base cittadini territori come diceva giuletto chiesa difendere i nostri territori magari potessero i sindaci dire torniamo a sei volte per metro purtroppo non si può più fare allora questo è il punto nodale una chiave di lettura politica le comunità montane vengono rappresentate all'UNCEM l'UNCEM è una situazione di comunità montane nazionale che praticamente è completamente appiattita rispetto a quelli che sono i grandi business delle telecomunicazioni sono tanti progetti che fanno in simbiosi portano avanti il 5g a tutto spiano anche nelle aree naturali protette nel verde di montagna quindi assolutamente secondo il mio personalissimo parere saranno favorevoli all'innalzamento dell'elettrosmog i governatori le regioni al netto di qualche regione che sta avendo adesso in questi giorni delle emozioni degli ordini del giorno pensiamo alla regione Piemonte che ha provato un ordine del giorno contrario all'innalzamento dell'elettrosmog però anche in quel caso a mio avviso potrebbe essere soltanto una dialettica di bandiera cioè magari quelle regioni di centro-sinistra potrebbero far moina dicendo no ma noi ci opponiamo un po' poi alla fine la grossa voce secondo me potrebbero farla i comuni perché in realtà i comuni essendo poi il territorio di prossimità del cittadino sono quelli che ricevono le dimostranze la mentele sono quelli che ricevono la contrarietà della base rispetto a questa operazione quindi molto probabilmente su queste tre componenti potrebbero essere i sindaci a farsi sentire però il massimo che possono portare a casa come incasso è rimanere a 15 volte per metro che è tanta roba purtroppo è lo tsunami elettromagnetico perché noi abbiamo e lo ripeto per l'ennesima volta l'anomalia italiana la rilevazione delle 24 ore quindi quei 15 in realtà già rappresentano 60 o 61 nei picchi diurni perché poi la rilevazione viene ammortizzata nella notte e quindi anche uno 06 notturno ammortizza a 15 il 60 di picco diurno e la cosa inquietante a mio avviso c'è un'intervista rilasciata qualche giorno fa su rai 3 nel servizio regionale puglia quindi rai 3 puglia viene intervistato un rappresentante dell'arpa l'arpa ovviamente sono le agenzie regionali di protezione ambientale arpa puglia viene intervistato proprio sul tema elettrosmog è una clip che io poi ho condiviso sui miei canali insomma siccome loro lo sanno bene che vuol dire aumentare elettrosmog no perché un conto è far finta di farci prendere in giro adolfo urso salvo pogliese e compagnia cantando addirittura c'è un parlamentare che durante la discussione che ha portato l'approvazione della legge che ci siamo trovati in gazzetta ufficiale onorevole de idda se non ricordo male di fratelli d'italia ha detto più avanza la tecnologia e più difendiamo i cittadini vabbè questo lo puoi dire a chi è profondamente ignorante sono addirittura che difetta di capacità cognitive arpa che sa che cosa vuol dire aumentare elettrosmog in questa intervista ha detto che loro sono contrari all'aumento dell'elettrosmog ma lo dicono con cognizione di causa perché ci lavorano sanno perfettamente che cosa significa avere una manovra del genere approvata da un governo scellerato che si è completamente appiattito alle alle desiderata delle multinazionali ma c'è di più perché non è finita che cosa è accaduto caro jeff nel consiglio dei ministri del 19 di dicembre questa è praticamente quasi una notizia esclusiva la sto dando io perché evidentemente sono forse anzi senza forse l'unico giornalista italiano che si occupa di questi temi il consiglio dei ministri prima di natale è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo pericolosissimo attenzione il decreto legislativo è diverso dal disegno di legge non passa per il parlamento il decreto legislativo viene approvato dal governo e diventa automaticamente legge con la promulgazione del presidente della repubblica e in questo decreto legislativo vengono stralciate le posizioni delle arpa regionali delle app provinciali soprattutto vengono azzerati i piani di localizzazione i regolamenti comunali cioè i sindaci comuni vengono messi da parte perché il decreto legislativo dice che per agevolare la parola burocratica utilizzata è la semplificazione semplifichiamo bravo Jeff hai capito semplifichiamo siccome dobbiamo sempre semplificare allora togniamo tutti quei paletti dell'iter burocratico e consentono alle arpa ai comuni di gestire quantomeno un'ipotetica corretta localizzazione delle antenne leviamoli e così arriviamo al fenomeno tipico di antenna selvaggia perché se questo decreto legislativo diventerà legge e verrà approvato allora a quel punto le compagnie telefoniche potranno installare antenne dappertutto sui detti degli ospedali davanti alle scuole in prossimità anche di di centri dove abitano e permangono eh soggetti elettrosensibili attenzione il problema degli elettrosensibili è gravissimo tutta questa fetta di popolazione è realmente a rischio i bambini in età di sviluppo eh una cosa pensiamo ai malati cronici ai portatori di pacemaker agli apparecchi elettromedicali insomma sono tante le facce seriamente sensibili esposte della società civile e quindi tra il la legge approvata il 30 di dicembre e il decreto legislativo vuoi sapere qual è la sintesi caro Jeff più antenne in tutta Italia e più antenne più potenti questa è la sintesi ed è qualcosa di vergognoso di cui questo governo la sua maggioranza parlamentare partendo da fratelli d'Italia che sono i primi ma poi ha ha cascato la Lega forse Italia insomma tutta questa maggioranza sta portando avanti un disegno diabolico da un punto di vista tecnologico e poi ce la vengono a raccontare perché andranno a trovare la linea mediana per affinché l'intelligenza artificiale non possa eh compromettere le capacità sensienti dell'essere umano ma chi vogliono raccontarla stanno predando i territori li stanno invadendo con le antenne stanno consentendo al 5g di fare tutto quello che gli altri esecutivi non hanno avuto il coraggio di permettere e poi arriva tutto quello che stiamo vedendo l'IT wallet il portafoglio digitale arriva la smart city la ztl allargata la città di 15 minuti insomma italiani io lo diciamo attraverso la casa del sole tv che è un media a livello nazionale dobbiamo aprire gli occhi dobbiamo comprendere quello che sta avvenendo usciamo da questa matrix per cui di certi temi non si può parlare perché poi alla fine si pensa che lo smartphone fa comodo a tutti lo smartphone le mail il computer non c'entrano niente non c'entrano niente con la connessione come avevamo prima con il livello che avevamo prima un po' precauzionale andava tutto benissimo almeno le connessioni funzionavano quindi non è per questo e poi vuoi sapere un'altra notizia che do caro jeff perché visto che ormai la lobby si sente totalmente padrona della partita e può decidere il bello e il cattivo tempo in qualsiasi momento addirittura non è uscito nei giorni scorsi e anche qui ho dato notizia sui miei canali invito a iscrivermi a seguirmi tramite telegram maurizio martucci giornalista libro è uscito fuori che confindustria sezione bergamo ha lanciato un messaggio per cui dal 29 di febbraio dicono che verranno aumentati i livelli di elettrosmog quindi stanno dicendo da confindustria bergamo più elettrosmog per tutti dal 29 febbraio ignorando il fatto che la legge richiamata la legge 4 del 2001 la legge del 30 dicembre 2023 dice che ci sono 20 120 giorni quindi ecco questo esecutivo si mette la condizione di consentire a confindustria di poter decidere quando innalzare elettrosmog in dispregio anche della legge nazionale che comunque prevede l'iter dei 120 giorni è impensabile immaginarsi che ci possa essere una protesta da parte dei cittadini in Germania che è il paese bloccato dagli agricoltori qui è impensabile che succeda Maurizio? ma io la vedo praticamente una remota condizione la misura in cui questo è un paese dormiente da sempre l'abbiamo visto anche sotto le emergenze sanitarie questo paese ha consentito qualsiasi cosa stiamo parlando sempre di minoranze che sono state in grado e capaci di comprendere e leggere i fatti per come avvengono e magari di manifestare il proprio dissenso anche in applicazione dei diritti costituzionali perché non dimentichiamoci che la manifestazione è un diritto costituzionale e ci mancherebbe nonostante magari Fedez se ne va da Parenzo sulla zanzara a Radio 24 a dire che attraverso lo speed chiunque verrà censito monitorato sul web quindi la censura attraverso la schedatura di massa ma stiamo scherzando ma noi dobbiamo essere messi nella condizione di vendicare i nostri diritti e le nostre libertà però dubito che questo paese riesca ad addrizzare la spina dorsale mi sembra profondamente dormiente poi soprattutto su alcuni temi lo vedo molto distratto poi magari chissà confidiamo sempre una buccia di banana caro Jeff che tutto possa possa cambiare direzione da un momento certo però come dicevi anche tu usano sempre certi periodi dell'anno per agosto natale capodanno oppure durante qualche tipo di emergenza siccome l'emergenza adesso oggettivamente c'è ed è quella che nel medio oriente la guerra si sta allargando sempre di più e gli stati uniti stanno facendo tutto il possibile perché questo succeda e sì devo darti ragione la vedo la vedo dura molte cose passano anche approfittano della distrazione delle persone proprio perché c'è la o la paura della guerra o la paura di qualche problema sanitario o qualcos'altro eh sì purtroppo è così e però dobbiamo dobbiamo riuscire a se non altro a far sentire la nostra voce è fondamentale diciamo che il servizio che noi svolgiamo a livello di informazione già è un passaggio importantissimo perché diamo notizie vere eh trasparenti senza conflitti di interesse insomma ci mettiamo nella condizione di coloro i quali fanno giornalismo senza peli sulla lingua quindi già questa secondo me la condizione preliminare perché l'opinione pubblica il cittadino possa crescere il proprio grado di consapevolezza e poi stato ognuno insomma essere responsabile di se stesso sentirsi chiamato in causa tutti i temi che abbiamo trattato all'inizio di questa intervista fino adesso sono temi che riguardano ognuno di noi riguardano anche i nostri figli e generazioni future non è possibile fare il gioco delle tre scimmiette o come lo struzzo sotterrare la nostra testa sotto la sabbia che bisogna comprendere che stiamo in una fase storica particolarmente critica unica inedita difficile difficilissima è che l'attacco è su più fronti se non ci difendiamo noi partendo dalla corretta informazione non ci difende nessuno questo è pacifico il paradosso è che si parla di certi paesi molto male per esempio dell'Iran è un regime dove ci sono pochi diritti magari è anche probabile che qualche dei problemi ci siano certo però in Iran i giornali sono tanti e non dicono tutti la stessa cosa ognuno ha la sua posizione ma ho detto Iran ma anche in altri paesi persino in Israele i giornali parlano qui no qui parliamo noi però parliamo noi da una nicchia e a una nicchia di persone comunque eh sì questo è gravissimo diciamo che quando a Davos inseriscono nell'agenda programmatica il punto nodale sulla cosiddetta controinformazione ma in realtà dovrebbe essere girato il rovescio della metaglia è ben altro è la concentrazione di potere da un punto di vista editoriale di tutta una serie di testate giornalistiche che sono praticamente in possesso sempre delle stesse mani pensiamo a pochi editori che detengono il monopolio l'olicopolio mettetela un po' come volete insomma poi è un balletto tipicamente all'italiana insomma ci si cerca anche a livello di informazione di far credere che ci sia una testata giornalistica orientata in un senso e l'altra in senso contrario poi alla fine le case editrici sono sempre gli stessi e soprattutto gli inserzionisti pubblicitari sono sempre gli stessi e quindi poi ti trovi dinanzi a una condizione particolarmente imbarazzante per cui prima di far uscire certe notizie ti devi chiedere se può compromettere l'inserzionista da un punto di vista pubblicitario sappiamo perfettamente come funziona io tra tra poco insomma credo se non ricordo male tra un paio di anni saranno trent'anni che sono iscritti all'ordine nazionale dei giornalisti diciamo che un pochino di rudimento l'ho amalgamato all'interno della mia carriera giornalistica so come funzionano per grossi per grossi linee insomma questo questo tipo di mondo che è particolarmente affascinante ma sotto altri punti di vista è particolarmente inquietante perché nasconde dei coni d'ombra e delle zone grigie che poi si riflettono a livello di opinione pubblica e soprattutto nel cosiddetto sistema democratico il principio dell'alternanza che in realtà è un'alternanza eterodiretta e controllata anche perché l'informazione è monopolizzata quindi purtroppo noi qui in Italia se non ricordo male credo che siamo qualche anno fa eravamo al cinquantottesimo posto adesso credo che abbiamo guadagnato qualche posizione in più insomma però abbiamo una classifica deficitaria mi riferisco a la libertà di stampa esatto a libertà di stampa che viene stilata annualmente dai reporter senza frontiere insomma diciamo che non stiamo assolutamente scoprendo nulla di nuovo l'Italia ha un grosso problema a livello di democrazia nella circolità dell'informazione questo è assolutamente consolidato purtroppo e noi continuiamo invece a parlarne a fare il nostro lavoro Maurizio più seriamente possibile e riportando i dati come tu lo stai facendo e vediamo di aumentare il volume della nostra voce in tutti i modi possibile grazie Maurizio della tua partecipazione però Jeff io poi ricordo magari chi volesse approfondire questi temi le mie due ultime pubblicazioni sia manuale di autodifesa per elettrosensibili lì si può approfondire il tema dell'inquinamento elettromagnetico da un punto di vista anche dei risvolti gli effetti sulla salute umana, sull'ambiente insomma quello che può accadere con questo aumento di elettrosmog lo trovate in manuale di autodifesa per elettrosensibili edizioni Terra Nuova con lo stesso editore anche Stop 5G perché abbiamo parlato di questa tecnogabbia di questa costruzione della quarta rivoluzione industriale sono tutti temi che io approfondisco da anni ci scrivo articoli, ci faccio libri, lascio interviste, approfondimenti e rubriche mi auguro che qualcuno abbia anche la voglia di approfondire in maniera più diretta quindi Stop 5G, saluti ambiente, geopolitica, privacy transumanesimo e controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale grazie Jeff, un saluto a tutti grazie a te Maurizio di nuovo e grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci alle prossime interviste ai nostri giornali approfondimenti e alle nostre dirette che sono ricominciate alle 19.30 con il nostro direttore Margherita Furlan che commenta con gli ospiti le notizie del giorno e non soltanto grazie e arrivederci alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti